gli ultimi che resistono al work camp lei che non ha voluto farsi intervistare ieri non mi ricordo adesso non spaventatevi non spaventatevi non spaventatevi non spaventatevi eccolo qui gli ultimi che resistono al work camp ma solo per andare a mangiare ovviamente perché altrimenti non avrebbero si chiama la pizzeria con padre pio quello uno dei miei troll che appunto è un significato è arrivato ad avere questo postamento così così dire Uggeri che tiene la sua lezione magistralis sulla Moratti bisogna mettere però l'hashtag solo che non so come metterlo qua sotto ma stai vi mandando su youtube? non ancora poi lo manderemo su youtube ti metto l'hashtag quando faccio il montaggio dai allora sono tranquillo perché il montaggio lo farai almeno tra sei mesi vedrai domani mattina c'è già online ma torno indietro questo è felter roberto l'occhio di felter roberto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti